Benvenuti a Live on the Pole! Finalmente un tutorial della scuola nuova box di danza, è enorme, infatti mi scuso per l'ego ma non ci posso fare niente, mancano ancora un sacco di cose, mancano lo specchio, mancano gli specchi, dobbiamo ancora sistemare tutto quanto ma poco alla volta faremo tutto anche perché abbiamo appena aperto. Il tutorial che vi mostrerò oggi si chiama Backhook Spin. Si parte come nella pole walk, quindi braccio esteso, braccio interno, braccio rivolto verso il palo esteso, senza fare queste cose così rilassato, mano in handshake grip, quindi la presa basica, e mi alzo in relevé, quindi sulle mezze punte. Avanzo con la gamba esterna, dopodiché porto la mano esterna all'altezza della scena del braccio interno. Una volta in questa posizione vado a creare una rotazione con la gamba interna e attacco la gamba esterna al palo, il punto di contatto all'interno del ginocchio, in questo modo. Ricordatevi che una volta che create appunto l'impulso dove vi andate ad agganciare, le ginocchia devono stare allo stesso livello. E il trucco appunto per girare bene è portare il bacino in avanti. E poi, se volete, andate in camera. Di solito questa posizione si prende dal dip. Grazie. Grazie.